Ma sei sicuro che non era tipo finto, cioè non finto ma una cosa dei tuoi occhi, tua immaginazione? Eh spero di sì Mi siete detto qualcosa che mi stiano fino, infatti non scappi da me, sbagliati Ok, ok Lascia l'attenzione Sì, no, ho visto una faccia, giuro Non so se era forse il vetro, ho sbagliato, schifo Raga qua dove avevo sentito il passo Per fare un rumore Anzi Può illuminare questo oggetto qua in mano? Ma sei qua? Sei qua? No, 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 andate fuori Ok Non ci vuole Non ci vuole Aspetta, vai 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 Vieni qua Togli un attimo tutto Non ferma Hai cantato? No Io i brivi, io non sto scherzando, ho sentito È una donna? Muomo Ha pensato fossi tu? No, no, la voce sembrava una donna Tu senti? Tu senti? Tu senti un po' la voce? Sì Cosa ho detto? Anche, anche per la volta Te richiede? Studio Studio Sì, sì, sì Ci vuoi mandare fuori? No Ti do' a consigliare Ci vuoi mandare fuori? No Ci vuoi mandare fuori? No Ci vuoi mandare fuori? Tutto il mondo Tutto il mondo Usciamo Vito 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 Usciamo Sì Ma qua sentito Sto sentendo la donna No Andiamo Usciamo il piano Sì 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 Non sapeva che cazzo mi ha detto Uscire A me ha detto scappare Uscire Siamo in stazione, cioè rendetevi tutto Andiamo a sorrire Se ti dice chiudere Se ti dice chiudere Dove anche tenere la porta Siamo usciti Ok Ok Fino a là non sta facendo niente Dobbiamo andarcene Ha tu detto che non andarcene? Non ha detto che è bello Non è male Mamma mia Ti sta prendendo per il culo Ha detto mamma mia E' da solo Dici qualcos'altro? E' da solo Cosa vuoi farci se non ce l'abbiamo? Ha detto tamponi Te lo giuro Ma bella Questa è chiara Tampo con questo Cosa ci vuoi dire? Aspetta Prima ho detto Ho sentito vattene Per dirci le due ultime parole Grosso Ok fuoco Intanto puntiamo sempre la porta Si sa mai No 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 Tutto sta giù in tavenna ragazza E' una maschina febbra E' una maschina febbra E' appunto Adesso No Non c'è 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 Tutto tranne questo Cazzo Noi mi stavo Eh? Ha detto luce Cosa vuole Luce Andiamo di là Ha detto Andare nel Andare nel Andare dove? Forse so dove No Si dice nel canale Dove andare? Una voce perfetta Ha detto Andare nelle ultime Nelle ultime Lago Andare nel Lago E si dice Andare nel lago Sta collegando tutto Andare nelle ultime Lago Dobbiamo andare Al sentiero dei morti Dove dice Va sempre Fiume e lago Ha collegato tutto Vabbè Ragazzi Andate nelle ultime Posizioni Nelle ultime Andagini Andiamo No mi sa che Questo vuol dire Andate nel Stiamo andando Nel sentiero dei morti Andate nel Lago Nel Andate E' tutto collegato Quindi Spero di essere piaciuto Questo speciale Halloween Alla Officina Maledetta Fise Ci sbattono fuori Ci volevano sbattere fuori Torneremo Torneremo E niente Adesso andiamo a sentire dei morti Che vedrete altri video Torneremo 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 Torneremo